Il futuro dell'Alessandra ritengo che quest'anno possa far molto bene. E qui invece siamo al Brianteo di Monza per il Festival del Gol con il Verona scatenato che vince per 5 a 1 con una tripletta di Lenoci, poi andranno anche in gol Picmal, Mancini e Jacopino per il Monza. Allora il Verona con gli ultimi innesti, insomma, è una squadra che punta a vincere il campionato. Non può il Verona non puntare a vincere il campionato. Gli ultimi arrivi hanno fatto la differenza ieri. Il mister Giannini si aspettava qualcosa in più dalla sua squadra, ma credo che proprio la differenza ieri l'abbiano fatto questi giocatori. Ecco, il Bomber le Noci. Bomber le Noci ritengo che quest'anno si possa riconfermare capocannoniere come è successo l'anno scorso, con 18 reti e addirittura con questi compagni di squadra potrebbe fare qualche gol in più e raggiungere la doppia cifra. È un giocatore straordinario, ieri autore di tre gol, il primo tapin leggermente in sospetto fuori gioco, autore tra l'altro di due assist, molto bene anche Anderson, ex reggiano sulla fascia sinistra, e bene bene anche Alfredson, ex giocatore della Regina davanti alla difesa, giocatore proprio adatto per questa categoria e per questa squadra a dettare i tempi di gioco e gli inserimenti. Ecco, abbiamo visto peraltro tutti i gol del 5 a 1, ecco qui ancora il Verona, il gol, insomma veramente esploso in maniera fragorosa. Grazie.